eccoci qui dovremmo essere in diretta credo di sì il nostro contatore dice che siamo a 7 secondi 8 quindi siamo in diretta buonasera a tutti benvenuti a questo nuovo appuntamento nostro nuovo momento d'incontro con passeggiando nelle novecento non sono solo come ormai ben sapete ma c'è david la mantia ciao david ciao mattia e buongiorno buongiorno pensa la lucidità mentale buonasera a tutti buonasera a tutti stavo dicendo poco fa un'amica che sono emozionato perché in realtà il fatto di parlare non ha dei ragazzi ma degli amici a dei colleghi a delle persone che scrivono come faccio io è qualcosa è un privilegio una responsabilità e però anche un po divertimento un modo per coinvolgerci tutti in una sorta di gioco dai siamo tutti parti di un gioco questo è quello che ci proviamo a farlo e proviamo a farlo con tre giganti del secondo novecento eh esatto saluto ecco come sempre i saluti tutti quelli che si stanno collegando marco verrillo da ita martinez marco il domascio agnes finalmente oggi perché mercoledì c'è anche tu quindi sono molto molto contento ciao gilda ecco vi saluto vi salutiamo in modo generale ora poi entriamo come sempre nei singoli commenti oggi come avete visto dalla locandina e parliamo di tre grandi nomi come sempre eh ogni nome è unico l'abbiamo fatto fino adesso ma oggi abbiamo insomma sostanza ciccia come si dice e io direi vittorio sereni eh beh eh si comincia subito la grande perché vittorio sereni è stato uno dei protagonisti di quella linea lombarda di cui parlò nel 52 luciano è stato sicuramente uno dei protagonisti un uomo di frontiera perché era nato a luino al confine con la svizzera e uomo di frontiera perché eh la sua è una produzione che affronta veramente dei temi limite fu eh colui che nel 1265 con gli strumenti umani aprì uno spaccato nuovo sulla poesia cioè aprì un modo di sentire la poesia diverso da quello che era stato proposto fino allora perché il tema della fabbrica il tema del lavoro il tema della vita sociale è vero che era stato affrontato nella ragazza Carla e altre poesie di Pagliarani di cui parlavamo l'altra volta ma qua c'è proprio il sudore il sangue il rancore rappreso dei eh degli operai cioè una Milano settembrina in cui ricomincia il lavoro dopo la pausa estiva in cui ci sono i padroni come dirà sereni quindi quel quel 1965 quegli strumenti umani resteranno per un'intera generazione un punto fermo un modo di di fare poesia un modo di eh slegarsi da quello che era la poesia pura la poesia assoluta che pure era stata toccata da altri autori il tema della socialità non era nuovo eh è chiaro che uno come Saba in Trieste eh in città vecchia aveva parlato no? Anche degli ultimi e aveva parlato degli ultimi parlando positivamente il tema degli ultimi del livello basso era stato toccato da Montale l'anguilla del 1256 dentro sa dentro la bufera e altro quindi non era un tema nuovissimo la novità è che qui siamo di fronte al boom economico e alle conseguenze del boom economico l'Italia Milano col suo triangolo industriale Genova Torino sta diventando finalmente una società industriale e porta delle conseguenze noi non abbiamo mai avuto una letteratura legata al tema industriale eh voglio dire che in in Francia eh Germinal o Lassumoire di Zola parlano di questo Virginie Lassertot dei Goncourt parla di questo eh il tema dell'industrializzazione in Francia c'è è forte perché hanno avuto uno sviluppo un secolo prima di noi quasi eh noi ci arriviamo più tardi noi avevamo il verismo eh in quegli anni avevamo la scapigliatura che era una protesta una rivolta ma molto molto elitaria molto chiusa eh invece adesso la siamo nell'epoca della riproducibilità dell'arte come diceva Benjamin come dirà Lukacs quindi siamo in un mondo completamente diverso e Sereni è dentro questo almeno in un primo momento poi vedremo che Sereni è tante cose in un secondo momento sarà anche qualcosa di diverso da questo ecco il primo testo che vado a leggere eh uno estratto di questo testo che è un po' lungo e si intitola Una visita in fabbrica. Lietamente nell'aria di settembre è più sibilo che grido lontanissima una sirena di fabbrica. Non dunque tutte spente erano le sirene? Volevano i padroni un tempo tutto muto sui quartieri di pena? Ne hanno ravanto della pubblica quiete col silenzio che in breve va chiudendo questa calma mattina prorompe in te tumultuando quel fuoco di un dovere sul gioco interrotto. La sirena che udivi da ragazzo tra due ore di scuola riecheggia nell'ora di oggi quel rigoglio ruggente dei pionieri sul secolo giovane ingordo di futuro dentro il suono in ascesa la guglia del loro ardimento ma è voce degli altri operaia nella fase calante stravolta in un rancore che minaccia buiandosi di sordo malumore che si inquieta ogni giorno e ogni giorno è quietato fino a quando? È una poesia è una poesia veramente che esplica quello di cui parlavo prima una tematica della tradizione una tematica dannunziana per eccellenza e cioè la sirena la sirena la sirena è la poesia la sirena le trombe d'aria le trombe d'oro della solarità di Ramontale giovane nel 25 in ossi di seppia la la sirena la sirena è qualcosa che significa il canto la musica ma qui siamo invece in una città sorda in una atmosfera dove i padroni vogliono tutto muto e l'unica sirena che si sente dal vivo è la sirena della fabbrica la sirena che indica il lavoro che indica lo sfruttamento che indica il dolore del vivere infatti si dirà dopo il rancore il sangue cioè questa vita che è una vita infernale no e però c'è anche un altro tema eh sereniano un tema molto sentito perché c'è un'altra sirena ed è la sirena delle aule scolastiche che segna il passare delle ore quindi c'è anche il tema della nostalgia della malinconia del ricordo di un passato che non torna che è un tema formidabile dal punto di vista di sereni e che in stella variabile del 79 diventerà il tema centrale di sereni ecco c'è quest'altra poesia e se vuoi ovviamente aggiungere qualcos'altro che è tratta dagli strumenti umani allora la seconda poesia tratta dagli strumenti umani è la spiaggia è la spiaggia la spiaggia è una poesia costruita in modo molto particolare perché sì probabilmente siamo d'estate siamo d'estate una voce blatera al telefono sono andati via tutti non torneranno più ecco la linea lombarda è spesso una linea che lavora per allegorie e non lavora per qualità del linguaggio lavora per qualità dell'immagine fortini e anche raboni saranno dei maestri in questo cosa vuol dire per allegorie noi non sappiamo che è andato via dopo si parla di toppe di inesistenza macchie solari si parla si parla di qualcosa di non chiaro forse dei morti forse di quello che i morti portavano come valore come importanza come tradizione al nostro vivere e alla fine c'è il mare che parla non più blatera come era la voce iniziale ma parla e ci dice torneranno quindi c'è un'atmosfera di speranza c'è la speranza che questo mondo che è un mondo infernale ho detto un mondo giocato sulla sopraffazione sul profitto venga sovvertito da altre entità da altro modo di sentire da altro modo di di credere forse quei morti porteranno di nuovo con loro lascito dei valori che parleranno che parleranno la tematica del mare è importante perché poi anche in fortini vedremo come la natura abbia un valore determinante la vicinanza alla natura un tema russoiano un tema leopardiano che arriva fino a questi autori sono andati via tutti blaterava la voce dentro il ricevitore e poi saputa non torneranno più ma oggi su questo tratto di spiaggia mai prima visitato quelle toppe solari segnali di loro che partiti non erano affatto e zitti quelli al tuo voltarti come niente fosse i morti non è quel che di giorno in giorno va sprecato ma quelle toppe di inesistenza calcio cenere pronte a farsi movimento e luce non dubitare mi investe della sua forza e il mare parleranno è questo 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 straordinario futuro no che è veramente l'emblema della speranza invece tutto ciò che è presente è un blaterare è morte e calce viva ricordiamoci di queste espressioni cenere calce viva che sono espressioni che troveremo anche in fortini e troveremo anche raboni e fanno quando si parla di lina lombarda non si parla di un manifesto si parla di una velta in shang cioè di un modo di vedere il mondo velto ciao un modo di interpretare il mondo ecco molti lombardi fino agli ultimi e io parlo anche di franco buffoni parlo di posterla parlo invece di una generazione precedente cioè il o i risi tanto per citare i cucchi tanto per citare ancora certamente hanno questo elemento comune c'è un modo di sentire un modo di interpretare il mondo anche con una certa malinconia con qualcosa che è tipicamente lombardo ecco in in sereni questo c'è fino all'ultimo momento che quello che andiamo a vedere ora c'è il momento di stella variabile io ho scelto una poesia in cui lui precognizza la sua morte e sorprendentemente la morte avverrà esattamente come lui l'ha precognizzata cioè lo troveranno morto in casa sua a 70 anni muore era del 13 muore nell'83 e lui immagina di tornare come spirito nella sua casa e di trovarla ancora calda di sé che più non ero è fantastico e di fuori e di fuori un gran vento ecco è quel vento che allegoria che cos'è quel vento e la vita che cos'è quel vento e il l'andare avanti del mondo del sistema industriale la natura che se ne frega di te può essere tante cose e questo è il bello dell'allegoria poi dirò quando arriviamo a fortini dirò un passaggio che riguarda anche sereni riguarda anche raboni ci sono tanti modi di far poesia e sereni fortini scelgono quello dell'allegoria e non quello del lavoro sul linguaggio e dopo ne parliamo certo ecco qui questa poesia che si intitola le sei del mattino tutto si sa la morte di sigilla e infatti tornavo mal chiusa era la porta appena accostato il battente e spento infatti ero da poco disfatto in poche ore ma quello vedi che certo non vedono i defunti la casa visitata dalla mia fresca morte solo un poco smarrita calda ancora di me che più non ero spezzata la sbarra inane il chiavistello e grande un'aria e popolosa attorno a me piccino nella morte i corsi l'uno dopo l'altro vesti di milano dentro tutto quel vento è fantastico questo è praticamente il testamento di sereni e del 79 lui muore dall 83 e il testamento di sereni a questo dentro tutto quel vento che è veramente un'immagine è fulgorante no piena di sfaccettature piena di significato ecco adesso siamo a fortini e introdurre fortini è abbastanza complesso perché fortini è stato talmente tante cose critico letterario di vaglia per corriere della sera per l'espresso ha scritto veramente per una marea di giornali il suo poeti del novecento ancora un testo fondamentale della critica letteraria traduttore sommo ricordarsi che praticamente brecht gate kafka le migliori traduzioni ancora in circolo sono quelle di franco fortini e di sua moglie ruth lies che era appunto di lingua tedesca fortini ha tradotto anche dal francese ecco tutti e tre gli autori che facciamo stasera sono stati grandi traduttori sereni aveva prodotto renescher aveva prodotto pound aveva tradotto apollinaire tutti e tre traducono apollinaire la novità anche stilistica questo spezzettamento polineriano quindi fortini e tante cose fortini fu impegnato anche nella politica anche se a un certo punto se ne tolse restituì la tessera dopo l'invasione sovietica in ungheria fu uno di pochissimi a dissociarsi da quel momento tragicissimo vissuto la nostra storia e pagò caramente questa scelta perché venne marginato e considerato un critico della sinistra a lui che si sentiva profondamente di sinistra ma un traditore per certi versi fu considerato eh è stato un critico letterario importante uno delle sue raccolte di critiche insieme a poesie si chiama l'ospite ingrato e questo spiega fortino fortini si sente un ospite non gradito o forse un ospite ingeneroso nei confronti della società che lo ospita dirà intraducendo brett tra i nomi dei nemici scrivi anche il mio nome e dirà ancora la poesia non muta nulla nulla è sicuro ma scrivi quindi la contraddizione no la poesia non muta nulla nulla è sicuro ma scrivi e non devi scrivere per l'oggi ma devi scrivere per il futuro devi scrivere per quelli che ancora non ci sono ecco fortini come sereni e raboni vi ho detto lavora per eh allegorie eh lavorare per allegorie vuol dire lavorare più sull'immagine sulla variabilità dei significati dell'immagine creare livelli multipli letterali allegorici anagogici morali come diceva Dante che era un altro che scriveva per allegorie l'altra linea è lavorare sul linguaggio cioè lavorare su un linguaggio che sia sorprendente per qualche verso no o scelto in assoluto o plurilinguista fino a scoppiare come farà per esempio Montale che è un plurilinguista eccezionale oppure sceltissimo come faranno gli ermetici che rifiutano il linguaggio popolare rifiutano ogni rapporto con il mondo esistente per andare in una solaria in un mondo puro una campana di vetro protetti dove la poesia non possa essere sporcata da niente che non sia poesia quindi una poesia autoreferenziale una poesia che non parli di politica di società e del mondo questa è la linea eh che lavora sul linguaggio oggi parlo spesso di neoermetismo perché c'è una corrente eh assolutamente apprezzata e forse maggioritaria che lavora oggi profondamente sul linguaggio c'è stato anche chi è stato in grado di fondere tutti e due i momenti io penso che al suo meglio Andrea Zanzotto è stato in grado di lavorare sia per allegorie che lavorando sul linguaggio è stato straordinario Pierluigi Cappello in assetto di volo è riuscito in certi momenti a fare questo non è facile Patrizia Cavalli ha fatto delle cose straordinarie ed è un percorso nuovo quello di fondere tutte e due queste tendenze eh Pier Vincenzo Mengaldo ne ha parlato Alfonso Berardinelli ne hanno parlato tanti eh anche Andrea Fortellissa ha citato questo aspetto è una cosa sul quale secondo me bisognerà riflettere io però vorrei cominciare con quello che di Fortini si sa meno cioè che era un grande epigrammista la più breve poesia della letteratura italiana è di Franco Fortini ora l'ascoltiamo e poi ne parliamo durerà molto perciò attenzione Carlo Bo no chi era Carlo Bo? Carlo Bo eh oltre negli ultimi anni diventò senatore della Repubblica diventò rettore d'Urbino ma Carlo Bo era l'autore di letteratura e vita del 38 era il testo con cui sostanzialmente si sanciva la grandezza degli ermetici cioè l'idea che la poesia dovesse essere pura incontaminata dalla realtà senza nessun tipo di impegno slegata e quindi con un lessico che fosse estremamente scelto estremamente alto e lontano da quello che era usato abitualmente quando dice Carlo Bo no Carlo Bo è una metonimia cioè lui come persona è l'emblema di tutti quei valori che lui rappresentava e quindi dire Carlo Bo no una rima fantastica Bo no è in realtà criticare un insieme di valori che in cui Fortini non credeva Fortini credeva una poesia che fosse di impegno che fosse impegno civile lui è il traduttore di Brecht sostanzialmente e chi puoi pensare più impegnato di Brecht onestamente penso che sia il massimo da questo punto di vista quindi tener presente questo di Fortini che anche in un verso così breve riesce a dare l'unghiata l'unghiata di significato ma senza rinunciare anche all'aspetto retorico perché Bo no è una ricercatezza fine ecco vado a leggere questa poesia che si intitola la gronda e poi ovviamente ci dirà qualcosa Davide la gronda scopro dalla finestra lo spigolo d'una gronda in una casa invecchiata che di legno corroso e piegato da strati di tecchi rondini vi sostano qualche volta qua e là sul tetto sui giunti l'unghituame calcine di mesi riparati ma vento e neve se stancano il piombo delle docce la trave marcita non la spezzano ancora penso con qualche gioia che un giorno e non importa se non ci sarò io basterà che una rondine si posi un attimo lì perché tutto nel vuoto precipiti irreparabilmente quel volando via forse la più bella allegoria della poesia italiana del secondo novecento la gronda e la sua rondine che cosa che cosa sono allora il lessico l'avete visto è un lessico qualunque è un lessico anche che fa riferimento alle cose concrete la calcina misere riparazioni la gronda stessa la grondaia di un palazzo abbastanza vecchio abbastanza abbastanza cadente e di contro una rondine che nonostante il marcire nonostante il vecchio dei tubi si siede si si posa qualche volta sulla gronda e poi volando via un giorno non importa se il poeta non ci sarà più la farà cadere irreparabilmente che cos'è questa gronda questo palazzo marcito di misere riparazioni il capitalismo un sistema che non funziona lo sfruttamento della natura punita stessa dalla dalla rondine rondine che forse diventa l'allegoria della speranza del tornare a una vita naturale una vita legata non allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo non alla mercificazione apre tantissimi livelli di significato politico sociale ecologico di impegno civile di impegno umanitario di speranza e il poeta non scrive per sé e per il suo momento ma scrive per quelli che verranno non importa se non ci sarà più l'importante che questo accade irreparabilmente questo mondo fallimentare che ci siamo trovati a vivere e di cui noi stessi siamo parte lo dirà in un'altra poesia introducendo brett beh fortini spera che un giorno finisca e se ne crei uno nuovo legato al volo alla rondine la speranza al cambiamento la natura qui è lavorare per allegorie è un altro modo di sentire non vi ho ancora detto che io sono stato allievo di fortini per cinque anni ho un carteggio piccolo con lui qualche dedica qualche cosa così e quindi ho avuto la fortuna di parlare con lui negli ultimi anni in cui lui era docente di critica letteraria a siena e quindi fu un'occasione io credo irripetibile oltretutto lui invitava i poeti dell'epoca io ho visto vi cito alcuni padre davide maria turoldo mario luzzi ho visto raboni la valduca insieme le ho anche toccati è fatto così li ho toccati erano veri e quindi vi assicuro che ho avuto la fortuna sanguinetti ho visto visto pagliarani lì lui invitava a distanza di tempo a siena questi personaggi che venivano era parlavano delle loro poesie io credo di essere stato molto fortunato lo dico la verità e perché ho avuto la possibilità di vederli ed ascoltarli dal vivo ecco passiamo questa poesia che invece si intitola agli amici che si fa tardi vi vedo veramente uguali a me nel vizio di passione con i cappotti le carte le luci delle salive i capelli già fragili con le parole gli amicchi eccitati depressi sciopati infanti rauchi per la conversazione ininterrotta come scendete questa valle grigia come la tramurtita erba premete dove la via si perde ormai e la luce le voci odo lontane come i fili del tramontano tra le pietre i cavi ogni parola che mi giunge è a dio e allento il passo e voi seguo nel cuore uno qua uno là per discesa strepitosa poesia che sembra una poesia a testamento no sembra una poesia scritta da un vecchio in realtà è una poesia della fine degli anni 50 quando fortini che era del 17 ma poco più di 40 anni aveva 59 credo quindi è stupendo questo suo immedesimarsi no in un'atmosfera che sembra di morte imminente gli spiriti sembrano spiriti reduci guardate che c'è la lezione di carducci in nevicata dice gli spiriti reduci mi chiamano chiamano a me e qui c'è la discesa però nello stesso tempo questa poesia così affettiva così umanitaria così apparentemente legata al tema appunto della fraternità è una poesia che parla della sua restituzione della tessera è una poesia in cui lui si trovò solo in cui questa discesa è in realtà l'allegoria di essere fatto fuori di scomparire di essere come un morto per quella società quindi proprio nella poesia in cui è apparentemente più solare più sereno oppure più vicino amichevolmente a un gruppo di persone la saliva mi rileggi quello straordinario verso quando dice una via e la luce è uno degli ultimi a dove la via si perde ormai e la luce dove la poesia dove la via si perde ormai la luce c'è un iperbato quel si perde che spezza che spezza la via e la luce dovrebbe reggere tutti e due e poi c'è una sillepsi perché in realtà si perdono qui usa il singolare per la via invece di usarlo si perdono la via la luce quindi la cosa particolare è che questo fortini che apparentemente colloquiale le salive la discesa è formalmente attentissimo ai particolari è un saggio di retorica delle figure più importanti della nostra storia delle figure retoriche e incredibile questo passaggio fortiniano cioè il controllo nel momento in cui pare apparentemente più aperto più sereno qua e là per la discesa è bellissima questa immagine questa discesa che sembra discesa della morte ma lui è poco più di 40 anni non è una poesia mortuaria molti l'hanno messa vicino a certe poesie di un po di un poeta che tutto il contrario di fortini ma che è così intimo così affettivo che è sandro penna di cui credo che parleremo in una futura in una futura volta eh sì non sveglia tanto è svelato il calendario ecco vabbè io sto adesso andiamo a leggere l'ultima poesia e poi chiuderemo con rabboni sempre di fortini questa poesia si titola molto chiare molto chiare si vedono le cose puoi contare a ogni foglia dei platani lungo il parco di settembre l'autobus già ne porta via qualcuna ad uno ad uno tornano gli ultimi mesi il lavoro imperfetto e l'ansia le mattine le attese le piogge lo sguardo è là ma non vede una storia di sé o di altri non sa più chi sia l'ostinato che a notte a nera carte coi segni di una lingua non più sua e replica il suo errore è niente è qualche cosa una risposta a queste domande dovuta la forza di luglio era grande quando è passato è passata l'estate però l'estate non è tutto che bello anche qua un incredibile allegoria allora il poeta è su una panchina su una panchina probabilmente autunno ci sono le foglie che volano i tram che passano lui riflette sulla sua vita su quella che è stata la sua vita e qual è stato il senso della sua vita e allora c'è questo finale questo finale incredibile no la forza di luglio era grande quando è passata è passata l'estate ma l'estate non era tutto che cos'era quindi la forza di luglio la gioventù la freschezza la forza di portare avanti le proprie idee o forse su un livello politico era il luglio del 68 francese che è finito con le speranze connesse a marcuse che lui aveva tradotto con le speranze connesse a tutti i grandi filosofi che avevano portato avanti il 68 forse era finito quello ma l'estate non era tutto quindi non è tutto la gioventù su un piano allegorico ma non era tutto neanche la speranza del 68 forse ci sono altri meccanismi che devono entrare che devono entrare dentro dentro la poesia ultima nota fortini ha scritto il testo di quella cosa in lombardia cantata da jannacci ha scritto domenica il lunedì di branduardi ha scritto tantissime cose in musica e anche regista attore ha fatto talmente tante cose che può essere paragonato per certi versi a pasolini con cui condivide l'esperienza di officina di quaderni piacentini e altre opere ecco intanto continuo a salutare le persone che piano piano entrano non ci siamo dimenticati anzi ecco ho visto dei 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 commenti relativi a questa questa serata molto molto gradite ecco can diceva ma ma potremmo metterci anche la sioma carcinoma della fantasia anche questo è molto bello marco dimascio valdù garaboni insieme scintille insomma ci sono vari commenti poi insomma risponderemo bene ecco daniela favretti ogni tanto mette dei commenti per quanto cerchi di dividere con voi davvero le parole questa una penso sia una citazione ecco e ora invece proviamo a giovanni raboni beh giovanni raboni è un'altra generazione sereni era del 13 fortini del 17 raboni è del 32 quindi è decisamente più giovane rispetto agli altri morirà nel 2004 questo è abbastanza interessante uno muore nell'ottanta tre uno muore nel 94 uno muore nel 2004 quindi muoiono a dieci anni l'uno dall'altro raboni rispetto agli altri è il più sperimentale di tutti cioè è quello che prova prova e riprova la ricerca di uno stile rispetto a fortini dirai che differenza c'è e che fortini ha una certezza da portare avanti raboni non ce l'ha raboni vive nel dubbio vive nella condizione di prigioniero lo dirà lui in intervista che il suo punto di riferimento era le conclusioni provvisorie di montale del 56 sogno di un prigioniero al piccolo testamento cioè la sua condizione essere prigioniero di una società che non ama che non gli piace che rifiuta sostanzialmente come fa fortini ma fortini ha un messaggio forte da portare avanti raboni via via sempre più disilluso al dubbio perenne su qualsiasi cosa e poi ha una formazione che è stata una formazione cattolica anche se poi lui è laicissimo ha una formazione cattolica fortini era un valdese era figlio di un padre ebreo ed è si era fatto battezzare valdese quindi era un protestante sui generis per per dare l'idea e aveva un approccio profondamente diverso a quello di raboni raboni a tanti stagioni e sono stagioni intervallate dalla sua attività critica che è fortissima incessante sulla poesia degli anni sessanta sulla poesia francese baudelaire è tradotto da raboni e baudelaire è sempre presente nella poesia di raboni in questa atmosfera maleodorante sgradevole in questo splin senza speranza che circonda l'uomo ci sono echi di tutti i poeti precedenti da la città cupa di sbarbaro di cui abbiamo già parlato raboni e questo no raboni e tante visioni io ti ho dato delle poesie da gesta romanorum dalla città della vetra e poi però c'è quella poesia d'amore fulgorante col quale ti invito aprire che è dedicata che è dedicata alla valduga lui intrecciò una relazione con la valduga dall 81 più o meno fino al 2004 era già stato sposato era mi sa che non si separò mai neanche completamente una situazione molto complessa ma la valduga che aveva 32 anni meno di lui perché la valduga credo che sia del 50 del 54 del 53 di quegli anni lì quindi oggi a 68 anni sostanzialmente ed aveva 32 meno di lui io quando la vidi vi dico la verità rimasi sconvolto aveva dei guanti neri che arrivavano fino alla te dei guanti impressione vestita di nero con una velettina una voce di una sensualità di un erotismo travolgente donna bellissima era allora una ragazza e veramente mi ricordo che fortini ironizzava su questo su questo raboni un po diciamo ansia un pochino un pochino la differenza lui ci scherzava su questo però erano folgoranti insieme l'essere dei brani delle loro poesie fu qualcosa di travolgente quindi vedere quest'uomo travolto dalla passione per questa ragazza così bella così prorompente di una sensualità così alta era veramente qualcosa di sconvolgente ancora oggi leggendo quelle poesie io colgo quella passione incredibile che lui aveva una passione sempre con quel filo di malinconia che è la chiave della della linea lombare ed ecco qui questa poesia le volte che con furia che nel tuo ventre cerco la mia gioia e perché amore so che più di tanto non avrà tempo il tempo di scorrere equamente per noi due e che solo in un sogno o dalla corsa del tempo buttandomi giù prima posso fare che un giorno tu non voglia da un altro amore credere l'amore è bellissimo perché c'è l'atto sessuale e c'è però il dubbio profondo e che solamente in un sogno lei potrà veramente restare allegata a lui mentre in realtà il destino di superarlo c'è proprio la fragilità del vivere di raboni che proprio nel momento in cui con furia cerca la sua soddisfazione sessuale sa già che questa non è altro che un attimo un momento mentre il suo destino è quello di essere travolto da da altri amori dalla dalla gioventù folgorante di questa ragazza è una poesia a verità sconvolgente in cui però il poeta non si sottrae all'artificio tecnico quando per esempio fa il tempo il tempo facendo un bisticcio un epizeusi uno accanto all'altra la geminazio la ripetizione della stessa parola è straordinario da questo punto di vista perché proprio anche lui nel momento di maggiore passione alla disillusione e la capacità di gestire con misura questa disillusione ecco sto vedo che stanno arrivando dei commenti li leggiamo poi alla alla fine di queste due due poesie ecco quest'altra poesia invece si intitola le case della vetra e fa così solo qualche parola solo una notizia sul rovescio del conto sbagliato dal padrone forse è tardi può darsi che la ruota giri troppo in fretta perché resti qualcosa occhi squarciati teste di cavallo bei tempi di guarnica qui i frantumi diventano poltiglia e anch'io che ti scrivo da questo luogo non trasfigurato non ho frasi da dirti non ho voce per questa fede che mi resta per i fiaschi simmetrici le sedie di patogonali non ho più vista o certezza è come se di colpo mi fosse scivolata la penna dalla mano e scrivesse col gomito o col naso si perde l'umanità e lo scivolare della penna dalla mano è il perdere dell'umanità il perdere della vita e farlo col naso col gomito l'innaturalità la perdita di ciò che è umano che è profondamente umano ma tutto ma tutto lo scenario la poltiglia questa questa chiusura dell'ambiente è una ripresa montaliana è una ripresa montaliana e montale era ingombrante per i poeti di quest'epoca ricordo che fortini raccontava che lui sereni e raboni stesso andavano a casa da montale e montale va parlato male di loro perché aveva una brutta parola per tutti montale in questo senso era abbastanza particolare soprattutto l'ultimo e comunque andava da andavano da lui anche aiutarlo a mangiare anche a sostenerlo morì poi 85 anni montale era del 96 morì dell 81 e questa questa immagine ricorda troppo il sogno del prigioniero piccolo testamento la lì c'era la poltiglia delle delle tarme la poltiglia di questi insetti che volano no che ricorda iride di montale e qua uguale c'è questa poltiglia questo questo grigiume questa vita ormai schiacciata ormai ripetitiva questo da raccolta del 56 59 è abbastanza significativa ci sono dei personaggi molto particolari ogni volta descritti diventano quasi dell'unico ma ecco dei lineari dei personaggi è qualcosa di tipico di raboni sembra quasi edgar lee masters quando fa spur river e ogni tomba è un personaggio è una descrizione la stessa cosa cerca di fare rapporti e concludiamo con questa poesia molto bella che si intitola timori della maddalena ho paura del legno della rupe ho paura del corpo del nervo lacerato dei tendini recisi ho paura della luce ho paura del sasso che chiuderà la tua porta ho paura del vento delle voci ho paura del corvo che ti mangerà ho paura del lupo che troverà le tue ossa ho paura che tu sia morto e tutte le notti avrò paura che tu mi baci di gelo e mi tiri i piedi sotto il lenzuolo mamma mia è straordinaria questa umanizzazione della maddalena e di cristo sono dei personaggi umanizzati non sono dei santi non è la divinità fanno dei gesti che esprimono la condizione di fragilità umana la paura di ogni cosa anche la paura della luce la maddalena ha persino paura della luce e di cosa ha paura ha paura che la porta del sepolcro si chiuda ha paura che lui possa ritornare e baciarla di gelo guarda che analogia bellissima baciarla di gelo è un'immagine che properzio aveva fatto per la sua cinzia era un'immagine la fredda tomba e la morte ignuda mostravi di lontano al finale di assidia l'apparizione di qualcuno di morto che terrorizza che sconvolge e poi questo gesto questo di tirare tirare le coperte dai piedi ricordarsi che i piedi sono sempre un'immagine di morte lo stivale per esempio nei cimiteri americani espressioni come tirare il calzino perché ai morti si tirava via le calze quindi il piede il piede non si mettono le scarpe sul letto secondo tradizione popolare cioè c'è qualcosa legato il piede che esprime la morte e la paura qui è una paura anche della morte è una paura di qualcosa di fisico di terribile di mostruoso e quindi e non c'è l'esaltazione della religione con un messaggio di speranza anzi si ha paura anche della luce e questo gesta romanorum che era una placchetta di 20 22 versi 20 22 poesie non fu mai veramente pubblicata da fu raccolta dopo a tanto caro sangue in seguito una scelta di queste pesie ma non fu mai pubblicata ed è una delle prime che lui fa nel 54 quando lui giovanissimo a 22 23 anni ed è secondo me invece uno degli arrivi massimi di raboni è una poesia bellissima forse è la più bella che abbiamo sentito stasera mi dedico ai commenti stasera avevamo tre grandi nomi quindi però non lo dimentichiamo allora agnes baciarla di cielo che brividi cristina sferra che poesia sonia tridice incredibile il senso della poltiglia anche questo è molto bello ecco poi c'era un commento particolare adesso devo andare a riprenderlo bravissimi passione conoscenza entusiasmo ecco giampaolo mastro pasqua siete incredibili trasmettete una passione per la poesia altissima è un po buono amo profondamente fortini vi sono grato per tutte le chiavi donate ecco c'era un commento adesso a volte mi appaiono i nomi ecco non mi appare il nome della della persona che ha scritto siete davvero bravi aprite una finestra straordinaria sulla poesia non so se sia già in calendario ma mi piacerebbe ascoltare da voi anna maria ortese le sue poesie grazie magari ne parleremo poi lo diremo ci sono tanti 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 grandi autori che secondo me vale la pena di cui vale la pena parlare e leggere quindi lo lo faremo l'idea l'idea è quella di andare a recuperare gli irregolari di andare a recuperare quei poeti che per un qualche motivo sono usciti di scena dalla dalla diciamo dal mondo della poesia si può pensare a calogero si può pensare a rocco scutellare un grandissimo morto giovane si può pensare sicuramente l'ortese si può pensare a tantissimi autori a me piacerebbe anche fare appunto padre davide maria turoldo si parla pochissimo di poesia religiosa si parla pochissimo di poesia dialettale ma vedremo vedremo cosa si potrà fare sì ci sono veramente tanti nomi ma avremo modo una cosa pian pianino costruiamo un bel percorso ringrazio tutti voi tutti voi che siete stati qua numerosissimi anche questa sera segno che quello che portiamo dentro le vostre case in questo circolare poesia è veramente una scelta azzeccate quindi sono molto contento noi ci rivedremo riascolteremo il 14 di dicembre spero di aver azzeccato la data dove ci invece rivolgeremo meno il nostro sguardo si rivolgerà verso invece delle autrici delle poetesse femminili quindi avremo le poetesse femminili sì delle poetesse quindi avremo Antonia Pozzi Margherita Guidacci e Patrizia Cavalli anche qui tre nomi diversi ci sarà un fil rouge ma ognuno di loro presenta una sua unicità beh insomma vi ringraziamo del vostro affetto e questo video lo potete poi trovare sul canale youtube di circolare poesia grazie a Davide grazie Mattia per la tua lettura per questa idea per coinvolgere tutti gli amici in ascolto e per avermi dato questa opportunità io ti ringrazio tanto è un privilegio lo dico sempre grazie a te e grazie a tutti voi ecco poi Davide risponderà singolarmente i commenti che vedrà e successivamente perché vedo che magari c'è qualche commento per lui bene allora vi ringrazio vi abbraccio tutti alla prossima ciao ciao ciao